Visto le dichiarazioni del sovrintendente che mi sembrano abbastanza confusionarie e sinceramente mettono insieme vari aspetti che poco centrano con la questione della crisi, del problema, dei problemi finanziari del Vittorio Emanuele. Il Comune ha sempre cercato di fare la sua parte, soprattutto in questi ultimi anni, compatibilmente ovviamente con le difficoltà e con le criticità di bilancio che ha lo stesso Comune. Io credo di essere stato molto chiaro nei giorni scorsi e nelle dichiarazioni che ho rilasciato. Da parte nostra non c'è il tentativo di fare un passo indietro, di volerci scaricare di alcuna responsabilità. Noi siamo pronti, anzi prontissimi a fare la nostra parte, a fare tutto il possibile e l'impossibile per aiutare il Vittorio Emanuele. Quello a cui non ci prestiamo però è far finta che le difficoltà dell'ente teatro nascano da mancanze del Comune. Io credo che sia giusto richiedere e pretendere i propri diritti in tutte le sedi, però bisogna farlo nei confronti del Comune ma anche nei confronti della Regione. Il Comune si impegna con le disponibilità che ha, dobbiamo impegnarci tutti assieme affinché anche la Regione faccia la sua parte e ricostituisca un contributo ordinario che negli anni è andato assottigliandosi e parliamo di milioni e milioni di euro, non di qualche centinaio di migliaia di euro.